Adesso a Fieste le 8, sono proprio le 8, le 8 in punto, uguali a Roma. Il direttore del teatro stabile Paolo Valerio, poche settimane dopo essersi insediato a Rossetti, realizzò due importanti video, si era in pandemia, dedicati al giorno della memoria e al giorno del ricordo, attingendo ai serbatoi storici che le vicende delle nostre terre mettono a disposizione. In occasione dei 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia, in una stagione che coincide fra l'altro con i 70 anni della fondazione del teatro stabile, Valerio mette in scena, proprio oggi a Rossetti, Trieste 1954, uno spettacolo scritto da Simona Orlando e Simone Cristicchi che neanche interprete. Tutto è doppio a Trieste, come la scontrosa grazia nei versi di Saba. È una città a doppio passo, è veloce e pratica, eppure a lungo immobilizzata, e poi a doppio tempo, con l'Italia liberata e l'ente per gli storici, a più liberazioni. Con musiche e parole, con l'aiuto di documentazioni video, saranno evocati le emozioni e i sentimenti che portarono a quella data fondamentale. Per l'occasione, Cristicchi ripropone il personaggio dell'archivista Persichetti, protagonista di Magazzino 18, lo spettacolo che anni fa conferì una dignità poetica finalmente nazionale al dramma delle foibe e dell'esodo attraverso una lettura esemplare di quei giorni e che con Trieste 1954 trova di fatto una naturale ed ideale chiusura del cerchio. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Buongiorno signori, buongiorno signori.